Si torna all'attacco? Contento di aver scelto Salerno? Contento sì, loro mi hanno scelto, non io loro. Però so che hai fatto un sacrificio anche tu per rimanere a Salerno. Eh sì, mia famiglia sta bene qua, non si deve pensare solo ai soldi, deve pensare a famiglia pure. La famiglia e anche la famiglia salernitana, insomma, con l'obiettivo in Serie B di arrivare dove? Eh, chiedi a Fabiani questo, al direttore. Vedremo un gabionetto diverso rispetto all'anno scorso. Certo. Più forte? Sempre. Grazie. Grazie. Non ci credo neanche sempre. Grazie. 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 Grazie.